Non otteniamo perché non abbiamo la fede richiesta, perché chiediamo grazie che non sono secondo i piani divini. Prima di tutto ci vuole la confessione. Solo se abbiamo ripulito la nostra anima e il Signore ascolta le nostre preghiere. Punto non può agire se non togliamo il male dal nostro cuore e lo abbandoniamo totalmente. Perché, dice San Giacomo, chiedete male, per soddisfare le vostre passioni. Noi chiediamo che si faccia più la nostra che la sua volontà e invece San Giovanni ci insegna che, se noi chiediamo qualche cosa secondo la sua volontà egli ci ascolta. Dobbiamo inoltre ricordare che quando non otteniamo, non è stata vana la preghiera, perché per mezzo di quella il Signore ci concede altre grazie, non chieste da noi. Prestiamo attenzione a questa espressione. Quando Dio chiude una porta, apre un portone. Dobbiamo sfruttare nel migliore dei modi questo enorme capitale che Dio ha posto nelle nostre mani, e utilizzarlo per noi, per tutti i nostri fratelli, per tutti gli uomini e perfino anche per i nemici secondo l'insegnamento biblico.